Benvenuti a questo secondo tutorial di handballelite.com Vedremo in questo allenamento uno speciale sull'elevazione per le sedute di carico, quindi periodi di transizione o comunque sia lontano dai match Adesso vedremo la sintesi dell'allenamento e la parte scritta in blu è semplicemente la parte che andrò a dimostrare in questo video Flessione dell'anca, flessione del ginocchio estensione dell'anca, estensione del ginocchio petto sempre alto arco lombare molto importante, non deve sparire massima esplosività stacco completo estensione dell'anca estensione del ginocchio anche qui fate sempre caso e ad attenzione l'estensione del ginocchio, l'estensione dell'anca lo stesso momento mantenendo sempre il petto alto se vede uno specchio sempre il petto allo specchio squat, jump massima esplosività 50% del peso corporeo l'esercizio di carico logicamente la percentuale che indico è quella del proprio massimale a meno che vicino non ci sia la dicitura BW che appunto indica il proprio peso corporeo al termine faremo 90 secondi di recupero e due serie da 30 secondi in ginocchio sulla Swissball questo non per fare i giocoglieri ma per simulare la stessa situazione in cui si troverebbe il nostro busto quindi addominali e paravertebrali in una situazione di massima stabilità come l'elevazione come l'elevazione